Musica Fratelli della corona del Nord Per la gloria del grande architetto dell'universo e nel nome della massoneria universale siamo tutti d'accordo non è più un uomo di cui ci possiamo fidare non è più un uomo non è più un uomo non è più un uomo la prego mi chiami Virginia grazie mille questo è solo un piccolo assaggio sono le lettere che teneva come garanzia con questi documenti di nostro possesso il nostro lavoro può continuare senza intoppi certo non abbiamo finito qui giornalisti, politici, magistrati in un modo o nell'altro dovranno essere tutti messi a tacere solo allora questa brutta storia del crack ambrosiano sarà un lontano ricordo mi è stato detto di dargli questi però signor Carboni le devo rispettosamente chiedere di non superare il limite di credito le ore di 20 milioni di lire certo eccellenza, certo lo ricomando di stare attento Don Virginia ho ricevuto l'ordine esplicito di procedere con cautela naturalmente mi esicurò che il messaggio sia chiaro me ne occupo personalmente grazie arrivederci a sua eccellenza Pavonilek a vestibola di Rusado le scrivo per informarla che abbiamo ricevuto il permesso di continuare con i negoziati e che tutte le parti interessate sono state messe al corrente a ogni modo mi permettere di chiedere nuovamente di procedere con cautela a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.